Allora è stata una giornata fantastica, oserei dire veramente bellissima, un sacco di gente. La giornata è iniziata un pochettino col brutto tempo, quindi eravamo un pochettino pensierosi e dubitavamo della partecipazione poi della gente di Clusone e non solo. Invece siamo stati smentiti perché la gente ha partecipato, contenta, allegra, siamo qua ancora che stiamo facendo festa assieme, davvero siamo felicissimi, quindi dobbiamo solo che ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questa bellissima giornata. Un grazie particolare anche al gruppo, al consiglio direttivo, al gruppo Alpini Clusone che con il loro impegno siamo riusciti a organizzare questa giornata, questa giornata di festa tutti assieme. Grazie anche alla fanfara Valle Camonica che ci ha tenuto così compagnia tutta la giornata, il sindaco, il monsignore, tutti quelli che hanno partecipato, davvero rischierei di tralasciare alcuni facendo dei nomi. Quindi grazie, grazie davvero a tutti, una giornata bellissima. Prendo l'occasione per ricordarvi alcuni impegni cui il gruppo Alpini di Clusone deve far fronte, tra uno dei quali, e ci sembra anche importante, faremo insieme al CAI di Clusone, procederemo alla sistemazione del tetto della chiesetta di San Lucio che ha alcuni problemini di infiltrazione e quindi andremo a fare una sistemazione del tetto della chiesa del Campanile. Questo insieme al CAI di Clusone è una prima vera occasione che abbiamo di collaborare anche con altre associazioni di Clusone. Spero che sia una cosa che prenderà piede e che quindi nei prossimi anni ci sarà molto più collaborazione anche con le altre associazioni. Altri impegni a seguire, sicuramente da ricordare l'incontro intervalle che ci sarà alla Cappanile Ilaria e poi ci saranno poi il gruppo Alpini impegnato ancora solitamente a Castagnate Varie, Castagnate all'asilo e quant'altro, che però poi man mano ci saranno poi le date ben fissate, allora magari poi utilizzeremo la vostra rete locale per darvi indicazioni sulle giornate specifiche. Beh sì, come annualmente capita, siamo presenti anche perché dobbiamo sempre dire un grazie all'associazione, agli Alpini, l'abbiamo sentita anche dalle parole del Monsignore, la loro presenza a fianco della comunità c'è nel prestare lavori, nel prestare amicizia, nel prestare sostegno. Oggi invece ci prestiamo a divertirci, quindi a mangiare, a stare tutti assieme, a conclusione oramai di quest'estate che già visti comunque come protagonisti, ma devo dire che la loro presenza c'è, la nostra presenza come amministrazione al loro fianco ci vuole essere, perché assieme si può sempre cercare di costruire qualcosa di importante per la nostra città. È sempre un appuntamento molto bello, molto atteso, quello col gruppo degli Alpini, è il modo anche per cui la comunità parrocchiale di Clusone esprime la sua riconoscenza a questo gruppo, che dimostra sempre una grande vicinanza, sensibilità, generosità, sia alle strutture della parrocchia, come all'oratorio, un po' a tutta la vita della comunità di Clusone. Certamente l'augurio è che possa continuare in questo impegno, anche con l'ingresso di forze più giovani, cercando proprio di mantenere quella generosità, quelle motivazioni di fondo che fanno davvero grande l'opera degli Alpini. e penso sia doveroso davvero rinnovare il nostro ringraziamento e invocare anche su questo gruppo, sui loro familiari, proprio la forza e la benedizione del Signore.